E lui per esempio si vede a televisione, lui si vede, non gli togli di tutto ma non a Medicina 33. Medicina 33 proprio ci passa il tempo perché tutti i lacciacchi che c'ha li riconosce tutti, ce l'ha tutti, non se ne perde uno. E quello poi gli è simpatico perché sembra un po' Mister Magoo quello, no? Medicina 33. Bene, oggi parleremo dei duroni. Quando un durone si può chiamare durone? Quando è già duro o quando è barzotto? Oggi parleremo di un altro problema che affligge gli italiani, l'aerofagia. L'aerofagia si può curare? Con chi cosa? Grazie. 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 Grazie.